Il pioniere del lavoro è l'emigrante Questo lavoro è una realità di famiglia, l'ho iniziato quando avevo 8 o 10 anni Noi prima abbiamo fatto la cucola di San Giacomo, l'abbiamo rifatta dopo quel terremoto e cascato E abbiamo fatto parecce di questi lavori qua, ora mi trovo molto meglio di mettere a fare questi giocattolini Lei si sente più artigiano o artista? Sempre artigiano, però artisti viene da artista o artigiano, però da artigiani che passi come artisti Quando faccio questa cosa, questa roba qua, la mattina quando mi alzo e già penso quando vado giù in poteca cosa devo fare E mi sento al cervello molto fresco Perché a me è un piacere che mi piace di fare E continuo a fare fino a quando sto bene, continuo a fare E senza sole Grazie a tutti.